Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in una nuova puntata della serie americana qua sulla Goldcrast Valley, back to the Goldcrast un bel ritornino al passato oggi, amici miei, è tempo di mettere le stalle vi ricordate che abbiamo tolto tutti gli alberi nelle scorse puntate, eccetera, eccetera proprio perché questa mappa mi è stato detto che ha dei problemi con la stalla delle vacche quella sua, quella originale che vediamo qua giù, eccola allora ho deciso di mettere una stalla in farm intanto i campi sono pieni di oro giallo il nostro bellissimo frumento e io direi di iniziare a posizionare la stalla ho scaricato un pack di stalle che andiamo a provare che si chiama Core Barn Pack, una roba del genere se mi ricordo ve lo lascio in descrizione qua sotto contiene un bel po' di stalle contiene una stalla aperta da 20 vacche una da 40 una grande da 300 e un pascolo da 400 immenso, guardate qua che roba ma è troppo grande per quello che serve a noi io vorrei mettere io vorrei mettere sta sta mamma mia, io ho paura di fai danni ho paura di fai danni raga, volevo mettere questa ma ho seria paura di fare i danni raga ci proviamo aspettate, aspettate me fate salvare prima me fate salvare ce l'avete voi sta ansietta? quando posizionate qualcosa di grosso c'ho un'ansietta raga l'ansietta di prestazione da qualcosa di grosso c'ho un'ansietta amici questa com'è quella un po' più piccola? ecco questa è bellina questa mi ce va questa è bellina però io voglio stile americano voglio cose fatte in grande come facciamo noi americani yes aspettare vai l'oggetto non può essere acquistato vai niente perché io ho scordato di mettere global company e quindi lui non fa mettere oggetti troppo grandi perché potrebbero deformare e rovinare deformare e rovinare allora mettiamo quella mettiamo adesso questa piccola quante vacche qua? 40 vacche mettiamo questa allora dai mettiamo questa da 40 vacca beh questa me la fa mettere oh questa da 40 vacca semmai ne metto due semmai ne metto due dai ne metterò due quando sarà adesso mettiamo questa piccoletta amici oh ha fatto montagnetta che bello che bello montagnetta americana allora scolpire ho capito raga però mi tocca mettere per forza la global non la volevo mettere per cercare di far laggare il meno possibile di appesantire il game il meno possibile però mi sa che me ce vuole un po' di global company perché se no qua raga non si riesce a a modificare gli amici di console mi capiranno perché non hanno la global company e quindi si trovano spesso credo davanti a ste situazioni disdicevoli molto disdicevoli ragazzi molto disdicevoli ste situazioni ok ok a meno qua fatemi spianare e dove c'è la strada principala la strada principala dai allora fatemi vedere ma io l'ho messa o no la global company si oh allora non l'avevo oh l'avevo messa non avevo messo il posizionamento esteso il posizionamento esteso oh mo si oh mo si che funziona oh oh mo si che mi sento meglio hashtag me sento meglio raga hashtag me sento meglio oh mo si mo si allora si vede che avevo anticipato le cose sapendo che dovevo mettere una sapendo che dovevo mettere una stalla avevo già attivato il posizionamento esteso mmm allora 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 qui devo alzare un pochino ho fatto un casino ci fa pure rima ok però così non va raga così non va raga perché devo 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 spianare devo spianare ancora di più devo spianare ancora di più perché qua raga e e che cacchio eh ecco semmai faccio così oh eh faccio così semmai allora perché veramente oh non è che si può mettere la stalla su un cucuzzolo oh sul cucuzzolo della montagna ecco metto proprio qua la stalla e famo prima oh mo posso spianare mo posso spianare ecco lo spianamo perché se no rimane sempre la stalla su sto cucuzzolo che è bruttissima da vedere è namo no la stalla sul cucuzzolo oh mentre così mentre così direi che è molto più bedda molto più bedda li è oh scolpisci 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 dai livella 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 e scolpisci scolpisci e livella scolpisci e livella livella e scolpisci oh raga ce la stiamo a fare ce la stiamo a fare deve essere un po' una collinetta che può sembrare naturale diciamo via nei limiti nei limiti oh ce la famo dite voi qui a passare col trattorotto ci passiamo col trattorotto oh vedete così è più ecco ecco fatto dai non fate schifo no se vede una salita se vede sta cosa che sta su una salitella su una parte un po' spianatella però però non fa schifo dai va bene va bene è carina dai un po' di salitella c'è del resto non è che possiamo prendere gli escavatori e e fare fondamenta con gli escavatori però vedete sto a spianare il più possibile oh c'ho fatto sono uscito oh allora io direi di mettere qua tutto marroncino tutto terreno amici tutto terreno tutto terreno e poi la famo noi adesso la divisione tra la strada non strada datemi un attimo è così spiano anche meglio se vedo se vedo oh ok qua mettiamo tutto terreno tutto terreno qua ci mettiamo gli stoccaggi delle balle perché bisognerà insomma metti i stoccaggi delle balle spero che io l'ho messi sì eccoli bale storage allora qui mettiamo quello della paia mettiamo quello della paia qua perfetto quello del fieno qua perfetto e quello per l'insilato lo mettiamo lo mettiamo qua che dite no no ho sbagliato non mi piace via non mi piace aspettate 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 eh lo so allora a bordo strada va messo quindi qua qua ecco e questo lo mettiamo qua in modo che no lì dà fastidio con l'uscita della stalla lo mettiamo qua dall'altra parte eh che dite proprio proprio davanti dall'altra parte ecco qua perfetto perfetto che abbiamo messo gli storage delle balle io mi auguro che qua perché qua lo vedo abbastanza ecco spianiamo mi raccomando è sempre molto importante spianare ok ok poi che ci si può mettere qua vediamo un attimino un po' d'erbetta sulla collinetta ce la mettiamo qua c'è una collinetta vedete qua c'è una no troppa erbetta sulla collinetta troppa erbetta sulla collinetta ragazzi che ansietta che ansietta sto editor di gioco meno male che il 22 sarà completamente diverso sarà tutto rifatto allora l'erbetta sulla collinetta deve essere proprio una cosetta proprio bellina una cosetta bellina ecco i cespuglietti bellini mi piacciono i cespuglietti ecco i cespuglietti ragazzi i cespuglietti che uno sa che qua c'è la strada e c'è la zona ecco i cespuglietti guardate che bellini ecco mi piacciono mi piacciono i cespuglietti uno sa che c'è la zona qua ecco i cespuglietti ok credo che l'ho messi troppi vicino alla strada a posto così 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 ok ecco qui c'è cespuglietti oh io direi che va bene così aspetta ci metto qualche cespuglietto qui cespuglietto 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 raga oh perfetto ma noi sappiamo che qui c'è cespuglietto no no qui no cespuglietto ok perfetto qui c'è la stalla adesso mettiamo l'animal pen e station mettiamo l'animal pen e station ok la mettiamo questa è per vendere il latte per vendere il latte va qua va dai la attacchiamo la attacchiamo qua dai brutto così vediamo ok questa è per il latte e poi questa è poi sta mappa funziona anche per la manual system tra l'altro eh raga se vi interessa uno magari può dire oh a me non mi interessa vabbè però funziona anche sappiatelo con la manual system poi questa è per l'acqua che io non vedo adesso non vedo qual è il trigger dell'acqua questo ma non ci posso credere cioè mi sarà di che l'acqua va dentro la carriola non ci posso credere non ci posso credere c'è l'acqua dentro la carriola va non ci posso credere vabbè perfetto dai cominciamo ovviamente devo comprare tutto raga devo comprare le vacche devo comprare le balle perché adesso per il momento non c'ho niente né vacche né balle né niente allora vediamo un attimino dove comprare le vacchette vediamo dove comprare le vacchette qua ok ci compriamo ci compriamo tutte vacche belle vacche miste aspetta che noi in america piacciono tanto vacche miste a noi piace veramente avere un mistino di vacche ecco adesso io chiudo cancello chiudo cancello se no vacca scappa io metto acqua ecco si lei beve su carriola guardate che bello lei beve su carriola un po' strana questa cosa della carriola però chi siamo noi chi siamo noi per giudicare dai bellina piccoletta una mappettina piccoletta carina insomma dai ci sta ci sta ci sta ci sta ci sta tutta adesso gli emettiamo un po' di fanghetto qua e là gli emettiamo il fanghetto qua dove c'è l'acqua gli emettiamo gli emettiamo il fanghetto ma io credo che lì ci si butta pure il cibo credo mica lo so io è un po' di fanghetto qua un po' di fanghetto qua qua c'è la cosa certo che la cosa del liquame attaccata alla cosa del latte è stupenda ok un po' di fanghetto generico ci sta poi 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 vogliono prendere il mio trattorino patatino per i pallet per le balle per tutto quanto eccolo attacchiamo aspetta un attimo che devo ah mo per dispiegare mo per stacca sta cosa per stacca sta cosa mo so Dolores un saluto a Dolores che ci segue disattiva collisione no devo solo staccarla ok qua su ci metto la forca per le balle visto che qua su compraremo le balle le compraremo ovviamente non le compro io andiamo a sistemare le balle che compraremo oh raga dai è bellina ci sta ci sta come come stalla come stradina bellina intorno ai campi molto molto patatina ecchime allora qua mi faccio portare direttamente qui le forche sono molto importanti le forchette perché se no senza forchette dovete mangiare con le mani allora forchettine forchettine mille euro di forchettine eccole qua mille euro amici le forchettine a posto dispiegato aspettate che metto quello a tre eccolo dispiegato e adesso ci facciamo portare un po' dei ballette io direi di iniziare iniziamo con iniziamo con otto anzi sedici de paglia sedici de paglia e i soldi se ne vanno ma poi la faremo anche noi è la paglia ovviamente qual è il punto di carico è questo attenzione perché qua questi sono i posizionabili dell'off bergaman questi delle balle raga quindi non li potete avere su console non sono sul modab ufficiale manco su pc dovete scaricare l'off bergaman e tutto il relativo pack per trovarli io preferisco quell'altro devo dire la verità perché quelli i bail stacks perché poi mette pure il capannetto però giusto per per far qualcosa di diverso che se no mettiamo sempre le stesse cose le stesse mod e non si finisce più raga non si finisce più allora devo anche crearmi un campo per comprarmi un campo per l'erba per fare un po' di fieno un po' di roba andremo poi nelle prossime puntate a fare quello ok però adesso diamo inizio alla nostra muccazione poi ci compriamo raga 16 di insilato no porca miseria me la spawnate lì che macello che macello raga hashtag che macello vabbè niente niente che ci preoccupi raga vedete robimello robimello risolve tutto niente che ci preoccupi niente che ci preoccupi raga alla fine tutto verrà sistemato tutto si risolverà ok queste volano le balle vero per darza un pochetto il terreno mo lo famo adesso fatemi mette fatemi mette fatemi lavora e fatemi lavora e vedrete che alla fine sarà tutto bellissimo sarà tutto bellissimo ragazzi qui mi ci vorrebbe già l'editor di gioco quello del del 22 con le staccionate le cose sai che spettacolo sai che spettacolo raga oh k it's american america style america style adesso io mettere queste ultime ballette qua con il mio bellissimo case international molto bello case international adesso mettiamo questo qui e questo qua ok case international oh perfetto perfetto guardate che belleffa che belleffa ragazzi che belleffa ragazzi non c'ho più la R stamattina non ce l'ho moscia non ce l'ho proprio più e infine il fieno ne compriamo solo 8 di fieno perché andrò poi a comprare un campo per fare fienaggione mi serve adesso giusto per capire dove spianare un attimino e dove livellare e una volta che ho messo le balle oh ecco una volta che ho messo le balle riesco a capire un attimino dove livellare e dove non livellare o capax o capax bellissimo e benissimo bellissimo e benissimo ok riprendiamo un attimino riprendiamo in mano il il come si dice quello lì ok la modalità allora qua le balle vanno bene e qua che bisogna arzza un pochetto scolpire ecco facciamo un pochettino e se no le ballette stanno sotto terra e non è bello ok perfetto a posto ok ci siamo ci siamo amici si mi sembra che toccano tutte toccano toccano voglia se toccano toccano si perfette ok perfettissimo le ballette toccano e no qui no però e no 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 bisogna un attimino capire che deve essere tutto ok ecco così così siamo stanno sotto terra un pochino sì un pochino sì un pochino un pochino pochino un pochino ok meglio di così raga non posso far ce lo fa manna bene eh ce lo fa manna bene che dite ce lo fa manna bene a posto toccano un pochetto lì sembra che stanno un pochetto eh ma va bene così Meglio così che volanti, dai A posto Meglio così che volanti A posto, raga Dai, ci sta, ci sta Ci stanno Ok, poi Decorazioni non c'ho niente, raga Credo che non ho scaricato Assolutamente niente, grave errore E allora, amici, ho inserito il pack Ho inserito il nostro solito pack Quello NML Quello lì, perché è troppo patatoso Per queste cose, è troppo patatoso Sto pack E quindi vado io a mettere Un po' di posizionamento Speriamo che non me ne debba Pentire queste cose Ecco, e infatti me ne sono subito Pentito, chi se ne frega Chi se ne frega Se il cuore è uno zingaro Cantava, allora Ma chi se ne importa Se il cuore è uno zingaro Allora, un attimino, raga Che non riesco a vedere bene Dove sto posizionando Il tutto Ok Ci sono? Ci sono? Ci sono? Eh... Ok Bello Beh dai, è più bello, raga È più bello Un po' stortarello Ma è più bello Ve lo dice Robimello Un po' stortarello È più bello Ve lo dice Robimello Eh, che dite? Dai, non è manco tanto stortissima Non è nemmeno tanto stortissima Io, io mi accontenterei Io mi accontenterei Dai che è carina Dai che è carina Non ce n'è una più piccolina Per chiude Così Così, raga Per chiude proprio Bellina Patatina Così per chiude Eh, che dite? Bellina Dai Ma adesso la strada ovviamente qua Se è tutta Sdeformata Se è tutta sdeformata la strada Ma noi la La riformam La riformam Ecco fatto Eh? Bello A me piace Cioè chi piace e chi non piace A me piace Ecco fatto Ecco fatto, raga Bello, bello Dai È venuto Eh? Non malo Non malo Questa è tutta la zona Delle vacchette Eh, poi Decorazione Decorazione Che altro ci possiamo mettere Una catasta di legna Non credo a che A che pro Potrebbe Giovarci Ecco Già invece un bel Un bel cespugliotto Qua ci potrebbe Stab No, vabbè Dai Non me piace Non me ghost Non me ghost Non me Ah, non me ghost Oh, le rocce No, non me ghost Non me ghost la rocce Non me ghost Eh, me sa basta Raga Dai, gli abbiamo dato Gli abbiamo dato Eh, quel tocchino Di, 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 di Le luspe Trattori vecchi Container Una paleolica Vecchia Tutta rotta Ma che è? No, semmai ce la mettiamo Nuova la paleolica Che c'era pure un po' Deuretti I vasi Ma no Ma che stiamo Do, do, che è? Che semi I fiorai Ad esempio, no Molto carina Eh, come ho detto prima La paleolica Mi sa che c'era una paleolica Qua funzionante Credo, eh Trove Barn Filanda Eh, aspettate Eccola Guardate che bella Proprio stile americano Raga Questa proprio stile americano Guardate che roba Ce ne mettiamo due Guardate che robina Bella Dai, ragazzi Stiamo a fare una bella farm Non ditene no È venuta bellina Oh È venuta bellina la stalla Adesso io mi Mi riswitcho Che ne dite, raga? Dai Bellina Bellina Dai A me piace A me piace C'è chi piace C'è chi piace A me piace Allora Un attimino Che qua C'è un pochetto Giustamente Quando abbiamo messo I posizionabili C'è un po' Ecco Slivellata C'è slivellata Ok Però ci voglio rimettere l'erba Qua Qua ci sta bene l'erba Su sto postino Ci sta bene l'erba Un saluto a tutti i postini Che ci seguono Ecco fatto Qui ci sta bene l'erbetta Su questo postino Ok Bellissima Bellissima Raga A me piace A me piace Raga Fatemi sapere Se vi piace Questa stalletta Robi Meliana Eh Che cosa ne pensate Commentate 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 Io come al solito Ringrazio tutti voi Che siete arrivati In fondo Al video Ringrazio Eh Tutti quelli Che si sono iscritti Che si iscriveranno Al canale Lasciate un bel like Condividete Ringrazio gli amici abbonati Anima vita Corre del canale Che ho setto Un canale di sostenersi Di andare avanti E di portare Tutti questi contenuti Grazie veramente Di cuore Vi ricordo che in descrizione Ci sono I link per preordinare Farming Simulator 22 E aiutare la mia affiliazione Partner Giants Grazie a tutti quelli Che hanno ordinato il gioco E quelli che lo ordineranno E il link Che è dell'altra mia piattaforma Dove sono in live Tutte le mattine alle 11 E tutte le sede Alle ore 20 e 30 Quindi amici Io vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao